Una guerra, cento anni fa, ha sconvolto più di 30 paesi. I nostri. Ancora oggi viene ricordata come la Grande Guerra. Il mondo in cui viviamo è la conseguenza di quell'evento. Ogni famiglia ne conserva i segni e le memorie. WW1, dentro la Grande Guerra, è una piattaforma aperta che aggrega in modo dinamico informazioni, testimonianze, documenti e narrazioni. Un nuovo modo interattivo di godere della cultura e diffondere la conoscenza. Gli spazi e gli ambienti diventano esplorabili a 360 gradi lungo tutto il fronte della guerra, permettendo di viaggiare a ritroso nel tempo e di calarsi nei panni dei soldati e dei civili che hanno popolato quei luoghi cento anni fa. Oggi possiamo riscoprire tutto di loro. Dove sono nati? A che reggimento appartenevano? Perché sono morti? Dove verranno commemorati? WW1 è un progetto no profit, uno spazio aperto per accogliere i contenuti che verranno prodotti dalle persone nel tempo. Storie di umiltà, coraggio, passione e pietà che hanno cambiato l'identità del territorio e dei popoli. WW1, dentro la Grande Guerra. Uno strumento di conoscenza. Per tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.